Sono 300 le roulotte attesa a Piacenza per partecipare al raduno religioso dei Sinti organizzato dalla missione evangelica zigana che per l'ottavo anno consecutivo ha scelto la nostra città come luogo in cui ritrovarsi. Il grande piazzale di Vianadotti in pieno polo logistico ospita già da qualche giorno un maxi tendone blu sotto il quale si svolgono tutti i momenti di preghiera. Il primo alle 6 del mattino, poi quello più partecipato alle 8 e nel corso della giornata tanti altri, rivolti in particolare a bambini, giovani e donne. Alle 20.30 l'appuntamento clou che richiama più di 1000 persone da tutte le regioni del nord Italia. Sarà così fino al 27 maggio. Gli organizzatori invitano di nuovo tutti i piacentini a partecipare ai momenti di preghiera o a passare da Vianadotti anche solo per vedere di persona il raduno che tanto sta facendo discutere. Ne approfittiamo per rinnovare il nostro invito a chiunque voglia partecipare a queste riunioni. Il nostro debito, se vogliamo così chiamarlo, con il Signore è di poterlo servire con tutto il nostro cuore e di poter predicare l'Evangelo ad ogni creatura, dice la scrittura. Quindi non fa distinzione di nessun tipo di razza, di cultura. La Bibbia dice di poter predicare l'Evangelo a tutte le creature. Quindi chi volesse partecipare alle nostre riunioni è ben invitato. Avremo molto piacere di ospitarvi e soprattutto di farvi conoscere questa grande realtà che è l'Evangelo in mezzo al popolo dei Sinti. L'invito è stato esteso anche alla Lega Nord, che nei giorni scorsi aveva annunciato di voler alzare le barricate per evitare lo svolgimento del convegno dell'Adimez. A quanto pare però i vertici del carroccio non hanno intenzione di accettarlo, continuando a criticare la presenza dei Sinti nella nostra città. Credo personalmente che sia qualcosa di estremamente sbagliato giudicare una persona prima di conoscerla. Sicuramente credo che la gente, se ha questi pregiudizi, è perché purtroppo qualcuno sicuramente magari si è anche comportato male nel tempo, abbia sicuramente fatto sì che questa situazione oggi fosse questa. Però sarebbe come dire se tutto quanto il mondo giudicasse gli italiani come tutti quanti i camorristi e mafiosi solamente per la piccola percentuale che purtroppo nella nostra amatissima Italia abbiamo. I Sinti hanno rinnovato l'invito a tutti i cittadini, anche alla Lega Nord, ad andare a pregare sotto il tendone blu. Credo che sia un invito che noi decliniamo. Personalmente assolutamente non andrò sotto il tendone. Se devo andare a pregare, scelgo il posto dove pregare e non certamente nel ritrovo dei Sinti.